il mitico francesco mandelli dopo aver diretto pochi mesi fa un film dal titolo bene ma non benissimo che purtroppo non sono riuscito a recuperare ancora ha già diretto un'altra pellicola uscita nelle sale il 3 ottobre del 2019 il giorno del mio compleanno questo nuovo film si intitola appena un minuto dunque io mandelli lo apprezzo particolarmente perché amando la commedia ho sempre apprezzato la sitcom dei soliti idioti e poi i soliti idioti al cinema ho visto i film dei soliti idioti la serie tv insomma mi ha sempre divertito la serialità dei soliti idioti mi è sempre piaciuta quella comicità e per di più mandelli lo apprezzo anche perché oltre ad essere insomma secondo me un bravo attore comico a cui piace sottoporsi a varie sedute di make up per interpretare i suoi personaggi l'ho sempre trovato un attore molto valido anche in altri ruoli anzi anche ruoli tutt'altro che comici ad esempio da piccolo seguivo squadra antimafia e me lo ricordo nella secondo nella terza stagione ed era veramente in parte era veramente bravo quindi a me piace molto mandelli mi piace la sua spontaneità lo apprezzo nei cinepanettoni lo apprezzo in altri in altre commedie lo apprezzo insomma perché secondo me è molto versatile sono stato molto felice di vederlo dietro alla macchina d'appresa questa è la sua terza opera perché la sua prima opera fu la solita commedia la solita commedia inferno dopo dopo i due i soliti idioti diresse insieme a biggio la solita commedia inferno una commedia che ho apprezzato che mi ha divertito che in tantissimi hanno stroncato ma che invece a me diverte sempre rivedere perché apprezzo proprio quella comicità diciamo degna dei soliti idioti pungente provocatore arriverente talvolta demenziale insomma quella bella ignorante mi fa ridere ero molto curioso da andare a vedere questo film appena un minuto dove mandelli non ci sarebbe stato come attore in questo caso solo regista proprio da quel che so come in bene ma non benissimo su carta diciamo la trama mi convinceva perché questo film parla di max giusti protagonista di questo film che interpreta claudio che diciamo è un uomo vecchio stile non è dietro alla tecnologia non sta dietro alle nuove mode fino a che un giorno i suoi amici ovviamente gli consigliano di comprare uno smartphone almeno perché ha ancora il cellulare del 15 18 no e quindi compro uno smart uno smartphone speciale comprato dai cinesi prezzi bassissimi uno smartphone che gli permetterà di tornare indietro nel tempo di un minuto e quindi il film vuole un po rispondere a tutte quelle domande cosa sarebbe successo se fosse arrivato un minuto prima mamma mia avesse avuto un minuto in più questo film vuole un po rispondere a queste domande cosa davvero succederebbe se si potesse tornare indietro nel tempo di un minuto si potrebbero evitare dei problemi si potrebbero cambiare le situazioni insomma su carta era un'idea interessante no dopo i viaggi nel tempo di massimiliano bruno nel suo bellissimo non ci resta che il crimine ecco che i viaggi nel tempo nel cinema italiano ritornano e ritornano in questo film tra l'altro scritto da max giusti perché la storia di max giusti e infatti in sceneggiatura abbiamo giusti abbiamo igor artibani e giuliano rinaldi non abbiamo in sceneggiatura mandelli dunque che dire sono andato a vedere il film al cinema purtroppo non mi è piaciuto perché cioè io apprezzo da morire mandelli mi piace molto il suo anche desiderio di cimentarsi in opere da regista e non da attore però allo stesso tempo in questo film ci sono veramente troppi elementi insieme non si sa mai dove si vada a parare se il primo tempo di questo film io lo salvavo perché nei suoi primi 40 minuti il film era carino cioè la prima mezz'ora per meglio dire mi divertiva anche perché comunque in questa mezz'ora si vedeva il nostro claudio interpretato da max giusti che insomma si ritrova ad avere questo smartphone che gli permette di andare un minuto indietro nel tempo e quindi il film vorrebbe insomma vorrebbe far pensare lo spettatore di come potrebbe cambiare la vita del nostro protagonista attraverso questo aggeggio il problema è che poi quel quell'aggeggio lì quello smartphone che dovrebbe essere cruciale all'interno del film ai fini della trama diventa solamente un espediente per allungare il minutaggio del film senza che poi abbia veramente un senso all'interno della pellicola perché da un certo punto del film poi non si fa più uso di questo telefono e anche quando si faceva uso del telefono alla fine non è cioè il telefono che porta veramente dei cambiamenti perché quando i cambiamenti si verificano alla fine cioè non portano neanche a dei benefici quindi perché chiamare un film appena un minuto app appena un minuto perché c'è l'app per tornare indietro e poi far sì che questo strumento non serve a niente perché te spettatori all'inizio ti illudi che sarà proprio grazie a questo aggeggio che il nostro claudio magari potrà riconquistare la moglie si sono lasciati lei sta con un insegnante di zumba interpretato da dino a brescia te pensi che lui attraverso il cellulare magari possa anche riconquistare i figli lui ha due figli che vivono con la madre con il nuovo compagno che non lo trattano bene che insomma sono un po alle prese con i problemi adolescenziali invece alla fine io non spoilero niente però no cioè il problema più la cosa secondo me più brutta di questo film è che mette troppa carne al fuoco allora questo film è un film che vuol parlare di un padre che vuol riconquistare la moglie e i figli è un film che vuol parlare di un padre che da un giorno ad un altro si ritrova un app per tornare indietro nel tempo e quindi utilizza quest'app per cambiare le cose è un film che vuol parlare di un padre che deve star dietro i genitori anziani perché il genitore che ha lasciato la madre si è messo con la badante cioè vuole trattare mille temi questo film e poi alla fine non riesce ad approfondirne nemmeno uno ed è un peccato perché su carta io vorrei dire a giusti al grande max giusti perché come comico come personaggio io l'apprezzo molto vorrei dire che c'erano tante cose buone per me su carta ma secondo me dovevano essere sviluppate meglio in questo film si mischiano insieme le potenziali sceneggiature di altri due o tre film qua fatemi un film su un uomo che non sta più con la moglie che ormai si è rifatto una vita con un altro va bene che quest'uomo abbia perso il lavoro che sia fallito va benissimo tutto questo ma non mi ci mettete i figli perché già è tanto in un'ora e mezzo cercare di inserire questo telefono che riporta indietro nel tempo e che risolve le cose se poi ci mettete anche figli uno vuol fare il treppere quindi schiaffi e gli darei e poi c'è una figlia con i problemi amorosi ok mi volete lasciare i figli però allora mettetemi da parte gli amici insomma in questo film perché poi nel film si vuol parlare anche degli amici che si ci stanno ma non sono ben caratterizzati c'è paolo calabresi cerber ballerina amici che si vedano in dei momenti del film poi per una parte del film spariscono completamente poi ritornano in certi momenti insomma la sceneggiatura fa acqua da tutte le parti se nella prima mezz'ora di film poteva anche scorrere abbastanza bene il tutto è nella seconda parte che si arriva a creare a mischiare insieme troppe cose e a rendere anche un po tutto banale perché alla fine c'è questo padre che vuole riconquistare l'affetto dei figli e non si capisce cosa abbia fatto di male ai figli ok il negozio ovviamente è stato chiuso lui è costretto a fare la gente immobiliare ma comunque non è che faccia mancare nulla ai figli quindi perché i figli ce l'hanno col padre quando alla fine è la madre che si è rifatta la vita con un altro uomo quindi se proprio tu te la vuoi magari rifare con qualcuno fai vedere i figli che se la rifanno con la madre perché non sta più con il padre cioè perché insomma vabbè già questa cosa non torna poi vedere il padre che cerca di riconquistare i figli già non si capisce per quale motivo e poi cerca di riconquistarli in che modo te pensi c'è l'app per tornare indietro nel tempo e diciamo l'espediente fondamentale del film utilizzerà quello no poteva essere anche una scelta bella di sceneggiatura mostrare un padre che è convinto che riconquisterà i rapporti con la famiglia solo grazie al telefonino e poi invece magari si rende conto che si può cambiare con il cuore con l'animo senza l'utilizzo di tecnologie poteva essere una scelta giusta il problema è che non va in porto nemmeno questa teoria cioè ripeto il film ha tanti spunti interessanti e nemmeno uno va in porto anzi ci si ritrova di fronte a cose proprio banali e fuori luogo perché se da una parte vediamo il nostro claudio che ritrova al che trova questo telefonino poi lo getta via poi lo rivuole poi i suoi amici gli stanno sempre dietro fanno battute su di lui lo prendano in giro poi lui però allo stesso tempo scopre che il padre si è messo con una con una badante russa e poi allo stesso tempo i figli hanno problemi amorosi e quindi lui vuole riconquistare figli ma allo stesso tempo vuole riconquistare anche la moglie che intanto si è messo con l'insegnante di zumba dina brescia che fa il provolone con l'alcol e altre in questo film l'ex moglie interpretata da susi laude c'è il cast a me piaceva anche perché insomma max giusti paolo calabresi dino a brescia susi laude poi abbiamo anche la partecipazione straordinaria dj ax abbiamo la partecipazione di loretta goggi massimo vermuller abbiamo anche abbiamo anche mirko frezza ad esempio abbiamo anche garinei cioè allo stesso tempo però i personaggi migliori di questo film gli attori diciamo quelli che te vorresti vedere di più sono quelli che vedi di meno anche i genitori anche i genitori loretta goggi e e massimo vermuller cioè si vedano veramente poco eppure sono quelli che te vorresti vedere di più cioè sono messi lì di contorno e te dici ok ora approfondiranno la loro situazione invece no è proprio una sceneggiatura fatta con amore non lo metto in dubbio che il nostro giusti volesse raccontare una storia che vuole mischiare insieme gli anni di un tempo con gli anni di oggi la difficoltà di un padre né stare al passo co tempi con i figli però allora fai un altro film fai un film dove mi racconti la storia di un padre che vuol cercare di lasciare la vecchiaia alle spalle in cui è sempre sguazzato e vuole abbracciare la novità fai un altro film dove magari c'è una storia di questo di questo uomo che vive ancora con i genitori che è separato dalla moglie e che vede i genitori in crisi perché il l'anziano si il padre anziano si è messo con la russa e quindi la madre anche se si sono lasciati è comunque è titubante le idee potevano essere tante invece no è tutto insieme in un calderone alla fine niente diventa protagonista perché questa aggeggio telefonica ad un certo punto sparisce ad un certo punto non serve a niente ma proprio anche sul finire del film se non a creare delle scene che possano divertire sul momento fini a se stesse non serve a nulla il cellulare a niente quindi perché appena un minuto non sarebbe stato tanto più bello se questo film se fosse stato diciamo scritto e in questa sceneggiatura non fosse esistito il telefono cellulare quindi si c'è far vedere un cambiamento attraverso solo le azioni vere senza il poter tornare indietro nel tempo alterare il tempo insomma ragazzi no purtroppo non mi è piaciuto l'ho trovato un film davvero bruttarello ha dei momenti che mi sono piaciuti e parliamoci chiaro ripeto la prima mezz'ora tutto sommato io la gradivo anche perché ero convinto che quel che stavo vedendo fosse ben sviluppato dopo invece purtroppo quando ho iniziato a capire che le cose messe a fuoco erano tante e che poi nessuna è stata diciamo elaborata al meglio detto no cioè va a cadere anche la prima parte che comunque era carina perché purtroppo tutto poi viene sistemato facendo un appiccicottio un po sforzandosi di far tornare le cose ma c'è anche la partecipazione di jayax ecco forse quella è la cosa che mi è piaciuta di più di tutto il film perché vi ho detto che il figlio di max giusti di claudio vuole fare il trapper e quindi in continuazione parla con il linguaggio trapper proprio stupido io rispetto chi ama la trap però a me proprio non piace per nulla e trovo stupido quella atteggiata ok ma gli da tu schiaffi insomma vabbè però allo stesso tempo la scena con jayax sul finire del film è stata la migliore perché lo dirò nella parte spoiler ma perché c'è una critica verso un determinato modo di fare un determinato tipo di musica che io sostengo appieno e quindi quella scena lì veramente mi è piaciuta ripeto mandelli spero che ne faccia tanti altri di film da quel che so anche il suo primo film il suo secondo film dal regista che non ho visto bene ma non benissimo quello vedeva la partecipazione di shade mi han detto in tanti che è veramente carino che è veramente un film divertente che è un film che fa anche riflettere non l'ho visto non l'ho visto lo recupererò però non è che siccome non mi è piaciuto questo mi auguro che mandelli non faccia più film anzi se il suo sogno è continuare a fare il regista che ne faccia tanti altri perché non mi è piaciuto questo ma come mi è piaciuto la solita commedia inferno potrà piacermi il prossimo mi auguro anche che max giusti se ha storia ancora da raccontare le scriva ma che possa anche imparare dagli errori poi non so cosa ne penserà il pubblico sono curioso se mi farete sapere se l'avete visto però per me è un film con del potenziale totalmente bruciato però perché si mette su caso mette su fuoco tanta carne ed esce veramente bruciata troppe cose messe insieme date più spazi alla goggi date più spazio a vermiuller a garinei non si può far vedere un minutino non si possano tirare insieme mille cose poi c'è anche un cameo vabbè qui c'è anche un cameo di un giocatore di calcio e io il calcio non lo seguo ora se mi doveste dividiamo se lo trovo su internet come si chiama è possibile cardarelli caldelli mardarelli boldel me lo ricordo perché poi c'è erber ballerina che fa il barista simpatico che lo chiama ballotelli invece se non sbaglio è cardarelli penso sia un giocatore perché fa sempre le battute in far riferimento a italia germania io col calcio sono ignorantissimo e l'ho trovata assolutamente fuori luogo il suo personaggio perché appare in dei momenti nel film e non si capisce cosa ci faccia in certi posti in dei momenti boh vabbè io sono ignorante se magari avete capito a chi mi sto riferendo non so se si un giocatore attuale vecchio forse un allenato non lo so ragazzi esiste un cardare cardarelli boh vabbè comunque ragazzi e mi ha ricordato un po come in zeta un film che ho amato di cosi male ma in cui in una scena jx usciva fuori da un gabinetto che è una scena anche interessante perché dà un consiglio al giovane isi no per andare avanti però perché jx sarebbe dovuto uscire da un gabinetto non poteva incontrarlo durante un concerto in altre insomma in altri momenti però vabbè e questa cosa mi ha ricordato il film questo dove appare questo giocatore in dei posti e poi c'è anche mirko frezza che interpreta o frezza non so come si pronunci bene che interpreta che interpreta questo barbone che vive no sul tevere e l'ho rivisto volentieri perché è un caratterista che apprezzo l'avevo visto in quel capolavoro di dogman vi ricordate che testare gli dava simoncino che botte gli dava e invece poi l'avevo vista anche in un altro film bruttissimo cioè a mano disarmata di bonivento ma va bene ragazzi se fa caldo e si fa freddo decidiamo noi e vabbè sceneggiatura in opera alla grande va bene ragazzi che dire mandelli mi raccomando fai presto un altro film perché secondo me il tuo amore per il cinema si nota si nota il tuo amore per anche diciamo i vecchi tempi gli anni ormai passati si inquadrano l'inizio di questo film è piaciuto si vedono i fumetti di text tutti messi bene sullo scaffale un jeans e una maglietta di nino d'angelo l'inizio è convincente l'inizio mi è piaciuto si vede che ami il cinema se non sbaglio mandelli fa anche una comparsa a sofia in bulgaria perché in una breve parte del film ci si sposta anche a bulgaria altra cosa così tirata a caso solo per allungare il brodo perché il padre vuole riconquistare i figli quindi li portano bulgaria nel senso non si capisce bene a cosa sia servito anche quel viaggio comunque ragazzi ora passa alla parte spoiler fatemi sapere la vostra e noi ci vediamo alla prossima recensione ciao bene ragazzi ripeto il film non mi è piaciuto per più motivi perché se l'inizio era partito anche in maniera convincente loretta goggi che sveglia il piccolo claudio e poi sveglia il grande claudio che ancora vive con i genitori che ancora vive con la madre la madre che non vuole sentire il padre perché la tradita e così via e quindi gliene ha fatte tante sono separati lui l'eterno bambinone che deve stare però dietro ai figli però già poi lì si comincia a mettere tante cose insieme il figlio tra per la figlia con manfredi problemi d'amore io dentro di me dicevo ma ora tutte queste cose dove ci porteranno le sapranno gestire tutte purtroppo no perché ripeto troppa carne al fuoco troppa sarebbe stato molto meglio che non ci non ci fosse stato questo cellulare al fin dei conti perché parliamoci chiaro lui entra in questo negozio dei cinesi trova bene il surrealismo che inserisce il nostro mandelli le cose un po fantasy il cinese che esce fuori proprio dallo scaffale che gli che gli continua a ripetere tu torna indietro tu torna indietro cioè te spettatore credi che questo telefono sia importante poi capisci che è importante solo per scene fini a se stesse perché ok a cosa gli serve il telefono a salvare il suo amico dalla nocciolina che gli è rimasta angola a salvare a uccidere più volte dino a brescia manfredi mentre parla con la ragazza con cui poi pomiscerà sulla fine del film e qui c'è ripeto sarebbero state anche scene divertenti e lo sono perché mentre le guardi sorridi ma se poi tutto ciò avesse avuto un senso se lui nel film veramente tornando indietro di un minuto avesse in un minuto è difficile cambiare però se se mi fai un film che si chiama per un minuto io penso che attraverso quella cosa tu possa cambiare o altrimenti sarebbe stato anche bello far vedere lui convinto di poter cambiare ma poi capisce che solo con le azioni reali uno può cambiare senza alterare il tempo le chiavi di lettura sarebbero potute essere tante il problema è che invece il film va a finire in scena e fine a se stessa anche quella dove ammazza tante volte manfredi purtroppo anche brutta da vedere perché si vede che è attaccato a un qualcosa che lo fa girare in studio e poi magari con con gli effetti visivi è stata rifatta la scena ma si vede che insomma è un effetto un po scadente ma a parte quello a cosa serve perché lui ok vincerà al poker ma quando perde al quando vince al poker ovviamente guardando le carte di nini bruschetta e non ho detto che in questo film grande nini bruschetta poi l'altro si suicida non muore però vuole suicidarsi non muore e gli riporta tutti i soldi dopo aver dato 500 euro ai figli cioè lui cerca di riconquistare figli con i soldi ma riconquistare perché cosa aveva fatto di male cioè posso capire se ce l'avesse ce l'aveva con lui il padre ma cosa aveva fatto di male per non andare incontro ai figli per per non farsi voler bene dai figli che è sempre gentile premuroso perché quindi non l'ho apprezzata questa cosa perché poi lui decide di buttare via il cellulare che ovviamente non si rompe perché cade addosso a mirco frezza al barbone c'è tutto il siparietto con 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 sanpei lo chiamano qui con mirco frezza poi il cellulare per un po di tempo un serve più e lui decide di fare questo viaggio con i figli cioè vuoi fare un viaggio con i figli poco dopo che hai restituito tutti quei soldi pagando solo 19 euro e andando incontro ad un viaggio pessimo che farà sì per forza che i tuoi figli ti guarderanno ti guarderanno ancora con occhi peggiori allora non ti conveniva visto che tu ha vinto tutti quei fogli da 5.000 da quant'era 500 5.000 euro tenerne uno in più tu ne tenevi uno in più almeno con 5.000 euro tu facevi un viaggio migliore poi tutto il resto tu lo rendevi a a quello che aveva cercato di ammazzarsi oppure tu ha visto che con quella tecnologia tu potevi guardare risultati delle partite in precedenza e poi ritornare in diretta può tornare indietro nel tempo e guadagnare non ci poteva pensare prima a guadagnare tanto fare un bel viaggio con i figli e può dare soldi anche a quel poe romo cioè perché ha dovuto riportare soldi per fare un viaggio scadente cioè non torna nulla e a far così però si la cosa ovviamente implica che i figli lo lo detestino ancora di più che poi cioè se vuoi farmi vedere dei figli che lo detestano fammi vedere dei figli che lo detestano è tutto lasciato invece a metà perché poi vanno in questa discoteca assurdo vedere luoghi proprio brutti della di sofia e poi una discoteca tutta invece brillucicosa figa c'è una sorta di contrasto che non mi fa credere a quel che vede poi il figlio che comincia a cantare come se nulla fosse vabbè quindi non torna nulla e poi il film continua ad andare avanti con i suoi amici che uno lavora al bar per ballerina l'altro cambia tanti lavori poi c'è j ax a cui non si capisce perché lui voglia regalare a sì ma ovviamente si regala il primo volume di tex perché almeno regalando il primo volume di tex lui ascolterà il figlio l'unica cosa che mi è piaciuta dopo qualche scena che mi ha divertito lì per lì ma che poi non è servita a niente l'unica scena che mi è piaciuta è stata quella con j ax dove j ax dice fa cagare perché è vero a parte un trapper che va da j ax che fa musica totalmente diverso è un po strano come che è un po strana come cosa però dice fa cagare fa cagarissimo ma è questo che piace giovani quindi sai quanti soldi ci facciamo quella è stata la cosa più bella di tutto il film perché è vero che giovani gusti terribili ascoltano la trap tutti i gusti sono gusti come disse quello ci cia il calzerotto però allo stesso tempo quella è stata la scena più bella però allo stesso tempo cioè mi sarebbe piaciuto di più vedere che lui riconquistava i figli non attraverso cose materiali perché alla fine ha dovuto far tutto questo casino io ti do a te tex faccio vedere che conosco j ax e quindi mio figlio mi vede come un eroe avrei preferito che la cosa si svolgesse in modo diverso già più comprensibile con la figlia a cui va a dare poi con la figlia che cerca di sostenere quando si lascia con manfredi e va a dare lo schiaffo no a manfredi che cade giù in piccina già lì è più comprensibile però tutto sommato che aveva fatto di male questo povero uomo cioè le basi non ci vengono dette non ci vengono date cioè cosa gliene dovrebbe importare ai figli se ha fallito il negocio se ha fallito col negozio che gli dispiacerà ma perché trattarlo male se comunque vi paga vi porta in giro c'è tante cose non tornano e poi si arriva a questo finale dove si scopre dino a brescia che sta tradendo la moglie e quindi in questa scena in cui i due parlano non si capisce cosa dicono dopo si comprende che lui gli abbia detto te vai via in lussemburgo perché non ha pagato i debiti però lascia loro qui il loro patto ok quindi lui fa capire che ora si è riavvicinato alla moglie e così via però si torna a che cazzo è servito il telefono in questo film alla fine eliminatemelo a cosa è servito a nulla perché il film è andato avanti senza che il telefono fisica ma per un minuto quest'app cosa è servita questo cellulare che tra l'altro gli viene venduto senza neanche un caricatore che io mi chiedo dove l'abbia caricato vabbè quindi anche il finale con il padre che muore perché era scontato cioè si sapeva che l'avrebbero fatto morire alla fine per delle battute in sceneggiatura che ci sono ma quando muore quello si capisce che muore si capisce infatti muore però cioè non è che è un film che vuol giocare sull'amore quindi ci si commuove no poi finisce con era carina anche la cosa se il film fosse stato sviluppato bene del cinese che torna e gli mostra un cellulare per cambiare ed essere in due posti contemporaneamente per sdoppiarsi era carina e purtroppo però va a crollare tutto quello che c'è prima perché i personaggi importanti ver nuller lag oggi ma anche garinei che sono sfruttati poco e sono i pezzi meglio ma anche la cosa finale che hanno voluto inserire del padre che ha lasciato tutta la batanta era un elemento interessante da sviluppare lo sviluppo anche verdone nio loro e lara ma non puoi mettermelo in un film dove già vuoi parlare di una famiglia che si deve ritrovare di un cellulare che porta indietro nel tempo di figli che devono ritrovare il padre insomma troppi casini la fine lag oggi si va con il colonnello dell'aeronautica cioè è un film secondo me scritto con amore da max giusti che io apprezzo tanto max giusti o la prezzo e non metto in dubbio questo film sia stato scritto con amore ma purtroppo se ci fosse stato uno sceneggiatore forse dietro proprio di professione sarebbe potuto essere anche un bel film dove magari si evitavano certe cose ci fossero stati magari dei personaggi di meno avessero abolito la moglie o figli e così via e o i genitori anche a quel punto magari poteva essere migliore come magari sarebbe potuto essere migliore se non ci fosse stato il cellulare capite cosa voglio dire perché se te mi fai un film coi viaggi nel tempo in italia è difficile vederli ci hanno provato i vanzina due volte con il cielo in una stanza torno indietro e cambio vita ci ha provato ovviamente non ci resta che non ci resta che piangere ovviamente non ci resta che il crimine ma secondo me era un'idea buona sviluppata perché tutti hanno pigiato dentro cose seppur mandelli abbia fatto bene a dirigere questa storia scritta da max giusti e seppur mandelli io l'apprezzi perché secondo me ci sa fare perché secondo me anche grazie alla sua verve comica un po' fantasioso un po' surreale alla monty python secondo me mandelli ci potrà regalare delle grandi commedie io mi auguro che continui ma anche delle commedie carine mi andrebbe bene però purtroppo in questo caso per me la sceneggiatura fa sprofondare tutto quindi no non mi è piaciuto abbastanza bruttino e poi non sto dicendo che sia orrendo sono il primo a dirvi andatela a vedere perché comunque è come se fosse un lavoro fatto in brutta copia quando si lavora in brutta copia prima di ricopiare su bella copia le parti in più si tolgono gli errori si tolgono questo è stato consegnato in sala in brutta copia quindi io mi auguro il meglio comunque per i prossimi film vi invito ad andarla a vedere di farmi sapere la vostra ciao ragazzi appena un minuto purtroppo sarebbe servito più che un minuto un copione nuovo ciao ciao ciao